La creazione della zona economica speciale e i fondi del piano di ripresa e resilienza rappresentano due opportunità fondamentali per la BAT e non solo. L'incontro sullo sviluppo del territorio al Future Center di Barletta ha visto anche la presenza del Vice Ministro per le Infrastrutture e la Mobilità Sostenibile, Teresa Bellanova, che ha fatto il punto sulla situazione economica attuale in relazione al futuro degli industriali. Spendere le risorse, spenderle bene e nei tempi certi. Le risorse sono state assegnate. Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile ha già assegnato la stragrande maggioranza delle risorse che deve gestire, che non sono poche. Abbiamo fatto interventi importanti per quanto riguarda tutte le opere sulle ZES. Finalmente, dopo il 2016, sono state pensate le ZES e abbiamo fatto il decreto il mese scorso per l'assegnazione dei 630 milioni di euro. interveniamo per far pagare di meno gli autotrasportatori perché stanno subendo un appesantimento economico molto forte. La ZES è però in cantiere da anni e gli imprenditori barlettani non hanno ancora ottenuto benefici concreti. Con il piano di ripresa e resilienza le opportunità potrebbero garantire una svolta. Nel frattempo aumentano i costi e il territorio ne risente. Il mio è un chiaro atto d'accusa, se ne sono fregati altamente. Nessuno guarda le imprese, nessuno guarda alle zone industriali. Stiamo chiedendo di evitare quello stato disastroso in cui versano le nostre zone industriali, quel continuo atto persecutorio. non c'è un minimo di programmazione. Andate a verificare al Comune quali sono i progetti che riguardano le zone industriali e merceologiche di Barletta. Se trovate qualche progetto fatemelo sapere.